2022 si è chiuso, 2023 è cominciato da poco, bilancio dell'anno passato, prospettive dell'anno che viene e questo mercato appunto che è così, in questo momento attenzionato da tante cose come vedremo insomma Sì, 2022 si è chiuso molto molto bene perché noi abbiamo presentato pochi giorni fa l'Osservatorio Immobiliare Nazionale in collaborazione con Icom e Denea proprio a Roma e dal nostro sentiment ci dovrebbe chiudere quest'anno cioè il 2022 con circa 775.000 compravendite residenziali che sono circa un più 3,5% rispetto all'anno precedente ovvero al 2021 che è stato un anno molto positivo perché le compravendite si erano chiuse a 748.000 compravendite cioè più 34% rispetto al 2020 più 24% rispetto al 2019. Secondo l'Agenzia delle Entrate sono dati provvisori però addirittura dovremmo chiudere il 2022 a 785.000 compravendite quindi più 4,7% questo per dire che il mercato immobiliare risponde ancora una volta benissimo e si conferma diciamo quel comparto che ha il più elevato coefficiente di attivazione della vita economica, sociale e occupazionale del sistema paese e quindi secondo noi devono essere messe in atto delle politiche governative attive che vadano a incentivare e salvaguardare questo investimento. Per il 2023 noi siamo comunque realisticamente ottimisti per quest'anno nonostante diciamo ci sia un rialzo dei tassi di interesse e comunque l'inflazione a doppia cifra e l'incarie energetici però riteniamo che ci siano delle buone prospettive e quindi siamo fiduciosi. I due elementi che vengono dall'Europa appunto i tassi, il rialzo dei tassi, il pubblico sa di cosa parliamo qui a Italpress Economy direi che lo affrontiamo quasi dalle prime puntate di settembre e l'efficientamento energetico anche tema conosciuto e dibattuto spesso con il nostro Zopis nei nostri focus e anche qui una norma europea. Allora rialzo dei tassi, cerchiamo di spiegare bene perché abbiamo letto un po' di tutti, allora sicuramente chi ha il mutuo tasso variabile sta andando in difficoltà. Io ho letto, mi corregga che in qualche caso la data è arrivata a cubare come dice a mangiarsi il 40% dei diventori di una famiglia e so che oltre il 30% l'azienda famiglia a rischio, mi corregga. Però c'è un problema per tutti i prestiti, c'è un problema anche per le aziende, ma stiamo alla casa. Però leggo anche che poi il mercato tutto sommato come l'hai detto va avanti, quindi vuol dire che la gente continua a comprare le case e che forse i mutui vengono comunque erogati, è così, non è così? Perché che questa cosa cambia in peggio le tasche di quelli che hanno un mutuo variabile è evidente. L'interessante è capire un po' quello che succede nel complessivo mercato immobiliare. Ma è circa un anno che sono iniziati gli aumenti da parte della BCE e quindi delle legittime preoccupazioni legate alle tasche degli italiani e quindi all'aumento delle rate da pagare. Però nonostante questo gli italiani, le famiglie italiane continuano a canalizzare i loro risparmi che per il 60% sono in immobili, proprio nell'acquisto della proprietà immobiliare non solo come prima casa ma anche come investimento. E' un bene rifugio e anche il luogo più sicuro dove gli italiani vogliono canalizzare i propri risparmi. Quindi viene visto l'investimento immobiliare più ricercato e più sicuro appunto di tutela dei propri risparmi. Quindi è vero c'è un rialzo dei tassi di interesse, però da una parte sono comunque ancora tassi, se ci pensiamo, relativamente contenuti. Perché comunque oggi un fisso... Sono traumatici rispetto a quello che aveva poco tempo fa. Esatto, questo è il ragionamento tenendo conto anche che negli ultimi 5 anni l'80% delle famiglie italiane hanno stipulato dei mutui a tassi fissi e quindi per loro non cambia nulla. Quelli che hanno fatto il variabile cambia, come abbiamo detto, l'importo delle rate però nello stesso tempo abbiamo comunque una ritrovata, se vogliamo, convenienza degli istituti di credito a concedere mutui proprio perché inizia ad essere un segmento dove c'è una marginalità differente. Quindi noi riteniamo che saranno più preoccupanti i criteri di accesso al credito che saranno più stringenti perché la capacità di spesa delle famiglie italiane appunto con gli effetti inflattivi è calata, ma non tanto il fatto di acquistare una casa attingendo al mutuo. Faccio una piccola digressione teorica. Lei pensa che sia la tattica giusta combattere l'inflazione con rialzi abbastanza alti e abbastanza frequenti nel tempo, anche se la Lagarde dopo le polemiche recenti e le critiche recenti, questo si è venuto da vari punti di vista, tecnici e politici e anche con la crisi che sta affrontando il sistema bancario è stata più cauta. Sì, io credo che gli siano arrivati diversi moniti da vari operatori, da vari stakeholder e si stia accorgendo che non è la strada in realtà così giusta. Noi non siamo assolutamente d'accordo su questa politica da parte della Lagarde, riteniamo invece al contrario che proprio i dati di cui abbiamo appena parlato ci testimoniano come il settore di liste immobiliare in Italia non solo è il vero motore dell'economia nazionale europea, quindi va salvaguardato e va incentivato appunto con delle politiche governative attive e non con delle politiche che invece spaventano, creano timore che è veleno per il mercato immobiliare del credito. Efficientamento energetico, anche qui l'abbiamo trattato, abbiamo spiegato, abbiamo spiegato un po' questa dimensione del ragionamento che riguarda tante cose che riguardano, scusate il gioco di parole, l'Italia o i paesi membri e la norma generale europea. Siamo tutti d'accordo che le nostre case, i nostri edifici devono inquinare di meno, devono andare di pari passo con una generale rivoluzione sulla sostenibilità, però poi nel modo di farlo, nel tempo, nelle progressioni, insomma si è calcolato anche qui che magari una famiglia non ha neanche quei 40 mila euro che servono per farlo entro il 2026, 2028, quindi giusto, non giusto, ci vogliono gli incettivi, cosa pensa lei dal suo punto di vista professionale? Noi abbiamo una posizione molto chiara, abbiamo fatto una sorta di claim, di slogan che è giusta la finalità ma sbagliata la modalità, come diceva lei, tutti desideriamo avere una casa, non è male, potete fare i pubblicitari, tutti desideriamo avere una casa di pubblicità, la federazione italiana ha gente immobiliare e pubblicitari, le piace o no? Sì perché se ci pensiamo tutti desideriamo avere una casa meno energivora, più bella, più digitalizzata, che impatta meno nell'ambiente anche per il futuro, quindi perché è una cosa che tutti desideriamo ci deve essere imposta? Cioè diventa un approccio coercitivo e obbligatorio che allontana l'approccio propositivo. Perché spesso se non ci diamo delle regole collettive poi la gente lo fa in maniera diciamo, magari sarebbe bello farlo con dei modelli culturali e basta, ma in realtà non è così. Quello è certamente vero, però è anche vero che se, ed è quello che abbiamo proposto noi, l'approccio diventa diciamo di accompagnamento e di supporto. L'altro giorno si discuteva in una tavola rotonda in cui si parlava di grande investimento, ovviamente efficientare gli immobili a livello energetico è un grande investimento per il paese, per i figli, per il futuro, tutto giusto, però l'investimento per essere considerato tale deve essere volontario e uno deve poter solo permettere economicamente. Qui mancano entrambi i presupposti, diventa obbligatorio e pare non ci siano i presupposti economici a sostegno. Allora noi abbiamo posto tre correttivi, il primo è che ogni Stato membro possa usufruire di due strumenti incentivanti coperti da un fondo energetico europeo. Il primo strumento incentivante è incentivi fiscali strutturali fino al raggiungimento degli standard minimi energetici, quindi non strutturali per sempre, ma fino al raggiungimento di questi obiettivi stabiliti dall'impostazione della direttiva. Il secondo è delle forme di finanziamento che siano agevolate realmente, cioè mutui green, cioè mutui a tassi veramente contenuti e forme di garanzia modello CONSAP a sostegno di questi finanziamenti per realizzare interventi di questo tipo. Il secondo è un sistema di esenzione di deroghe più ampio, perché il patrimonio italiano non è come quello svedese o quello tedesco e il terzo invece è una gradualità percorribile, cioè delle soglie di attenuazione con un allentamento dei limiti temporali. Secondo noi questi tre correttivi porterebbero appunto a raggiungere gli obiettivi stabiliti. E il governo italiano si sta muovendo bene in questo? Come sappiamo la commissione ITRE e la plenaria hanno già votato, ma adesso c'è il trilogo, quindi c'è il negoziato e secondo noi il governo può ottenere già, come in plenaria ha ottenuto in parte un sistema di esenzioni un pochino più allargato, perché sono entrati anche gli immobili storici, non solo i vincolati, quelli storici, cioè quelli datati. Quindi questi saranno esentati, nonché quelli dove tecnicamente è realizzabile realizzare certi lavori come il termocappotto. E in Italia abbiamo diversi immobili che tecnicamente non è realizzabile l'obiettivo stabilito dall'Europa. Certo, è un'altra materia che fa discutere tanto il Superbonus. In questa settimana, quella che insomma dove è collocato questo numero di tal press economy, ci sono state le ennesime decisioni politiche. Insomma la storia della norma la conoscono tutti, bene all'inizio, poi male dopo, poi andava ridotta nel tempo, poi questo governo ha richiesto un taglio netto, perché insomma secondo i calcoli di questo governo, tra ciò che ha procurato il positivo e ciò che ha procurato il negativo, prevarrebbe il negativo, però con una dismissione così rapida del provvedimento la filiera delle PMI, io lo dico perché ho fatto un'inchiesta, ma anche molti condomini, molte persone vanno nei guai. Quindi si è corso un po' di pari, soprattutto perché si può tornare alle banche a recuperare alcuni crediti, però lei mi diceva prima, quando ne parlavamo, che poi il problema non è tanto i crediti quanto quello dello sconto. Mi dica un po' il suo punto di vista. Sì, allora partiamo dal punto di... Soddisfatto del punto di arrivo di queste... di che ha raggiunto la politica questa settimana o no? Ma allora, questa norma diciamo del decreto cessione a noi non la riteniamo che sia impostata correttamente, no? Quindi l'avere eliminato repentinamente, come diceva lei, lo sconto in fattura, anche perché lo sconto in fattura è stata la leva, non solo per il super bonus, ma anche per tutti gli altri bonus e dirizi fiscali, per, come dire, invitare e incentivare il cittadino a comprarsi una casa brutta, vecchia, usata, dinanzi alla prospettiva di non tirar fuori soldi. Perché questo è il tema, diciamo, che interessa, diciamo, la collettività. E questo ha fatto sì, nei dati che parlavamo prima, che il 2021 e 2022 sono stati due anni in cui le compravendite hanno raggiunto livelli 750.000, forse 785.000 che non si raggiungevano da quasi 20 anni. Quindi noi abbiamo proposto due correttivi su questo, visto che c'è l'iter di conversione in legge del decreto, che sono quelli di, da una parte, mantenere l'incentivo fiscale con lo sconto in fattura per alcune tipologie di lavoro, tipo l'involucro, tipo il termocappotto, portarla magari al 70%, quindi abbassarne la soglia e collegare, associare l'incentivo fiscale con sconto in fattura, ha un obiettivo di risparmio energetico reale, cioè al kilowattora risparmiato e non all'euro di spesa e o alla classe energetica che spesso non corrisponde alla realtà. Senta, la casa, ce l'ha ribadito lei oggi, è ancora un valore importante, direi, nella testa, nella cultura, nell'antropologia degli italiani, ma anche un valore importante per i politici, sia elettorali o almeno. Che ne pensa dall'ultima proposta di Salvini di istituire il Ministero della Casa? Sì, il Ministero della Casa è una proposta che noi, tra l'altro, già circa due anni fa portammo all'attenzione, perché noi ci piace parlare di Ministero della Casa e delle politiche abitative e urbanistiche, perché l'idea non è di creare un apparato in più di burocrazie e di oneri, ma al contrario di eliminare le dispersioni di funzioni e competenze tra tre ministeri. Un luogo dedicata senza bisogno di fare un ministero, l'ho capito male. Un luogo, diciamo, in cui poter attuare una strategia nazionale delle città, avere una visione di insieme del settore della Casa e stabilire delle linee guida di riferimento per tutti i comuni che prevedono da una parte un piano strutturato di delizia sociale pubblica convenzionata per contrastare l'emergenza abitativa e evitare norme liberticide come quella norma Venezia, decreto aiuti, che vuole limitare il diritto del proprietario di affettare liberamente l'immobile e dall'altra parte stimolare l'iniziativa privata, agevolandola tecnicamente, modello una cubatura più alta quando si demolisce e ricostruisce la casa o incentivi fiscali che possano accompagnare la transizione ecologica e digitale immobiliare. Senta, approccio di città, che ne pensa di questa preoccupazione e tensione che c'è tra gli operatori turistici e gli affitti brevi e dati ovviamente ai turisti delle case del centro, delle case che possono essere vandure dei turisti? Secondo me c'è un approccio... Se vuole normare questa cosa, si rischia un mercato selvaggio? Fa abbastanza sorridere perché si vuole normare un comparto che è già ipernormato. Ci sono già diverse norme, leggi, decreto crescita, il decreto sicurezza, hanno messo in campo 7-8 adempimenti identici, cioè i proprietari o i gestori professionali come anche le agenzie immobiliari sono tenuti a comunicare all'agenzia dell'entrata, al comune, alla regione, alla questura stessi dati e informazioni duplicate, ripetute e questo ovviamente è veleno per il mercato e in generale per chi cerca di una soluzione turistica alternativa. Viene visto spesso come una forma di concorrenza sleale per il mondo degli albergatori, non è così perché chi decide di andare in albergo vuole dei servizi, chi va in un affitto a Firenze, a Venezia, non ha quel tipo di servizi e vuole vivere più la città, quindi indotto all'economia locale nazionale. Viene visto spesso come una forma, diciamo come un comparto che va a aggravare l'emergenza abitativa, non è così perché è un, ripeto, e l'altro punto che viene spesso visto come una fonte di evasione fiscale e quindi si tende a iperlegiferare e come continuare a aumentare le tasse per colpire chi non le paga. Secondo noi invece va fatto una maggiore chiarezza, una semplificazione, un unico adempimento digitalizzato, infatti adesso in Senato c'è la proposta di regolamento europeo proprio su questo e siamo stati dall'altro giorno del Ministro Santanchè proprio per porre in evidenza a questi aspetti, ma lo dico perché non se lo ricordasse, esatto, e anche tra le varie proposte, oltre a quello di semplificare e uniformare realmente, quello di armonizzare anche le normative regionali, sono troppo differenti l'une dalle altre. Senta, ultima domanda, legge sulla concorrenza che tanto fa discute per alcuni punti, mi dica se ho letto male o scritto male, in base a questa legge gli agenti immobiliari possono svolgere l'attività di mediazione e creditizia, che vuol dire? Sì, c'è una preoccupazione che l'agente immobiliare possa fare due lavori andando a, come dire, generare diciamo una confusione, una complessità non voluta, non desiderata. In realtà invece è una grande opportunità, è una legge che noi abbiamo voluto come federazione per mettere in atto per chi lo vorrà un'agenzia multidisciplinare a salvaguardia, tutela del mercato e del cittadino, cioè il cittadino entra in agenzia e oltre ad avere l'agente immobiliare che lo aiuta a comprare e a vendere casa al miglior presto senza problemi a livello documentale l'avere anche un altro professionista che segue l'aspetto del credito perché 8 persone su 10 che entrano in un'agenzia devono fare il mutuo, quindi un'opportunità in più per la categoria degli agenti immobiliari ma soprattutto per i cittadini nell'avere un servizio più ampio e più evoluto.